Ripartiamo da qui, è lo slogan scelto per la nuova campagna abbonamenti della stagione 2023-2024 dell'US Lecce. A illustrare novità, modalità e tempistiche delle sottoscrizioni per il nuovo campionato di Serie A è stato il vicepresidente del club giallorosso Corrado Liguori, assieme alla responsabile della biglietteria del sodalizio Angelica Dimitri. Ripartiamo da circa 20.000 abbonati della scorsa stagione, ha detto il vicepresidente Liguori, che rappresentano un senso di grande responsabilità, sia come società che per tutto il gruppo di lavoro che opera in questo settore. Ci sarà una grande attenzione ai costi, infatti saremo l'unico club che manterrà i prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione, con il periodo di prelazione che si allarga a 40 giorni. Sui prezzi delle singole partite Liguori è esplicito, le gare contro Juventus, Inter e Milan avranno una tariffa importante. L'unica variazione possibile è quella di creare una tariffa media per partite come Atalanta, Lazio, Roma e Napoli, con un costo che si inserisce in una fascia economica che oscilla tra standard e alta. A differenza delle passate stagioni non sono state svelate le nuove maglie di gioco, che saranno presentate nel corso della prossima settimana con un evento diverso dal passato.